Salve amici del Centrometro Italiano. Weekend che inizia con clima freddo e locali precipitazioni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 28 gennaio. Nuvolosità irregolare al mattino con deboli fenomeni su Romagna, Marche, Lazio, Abruzio, Puglia e Sicilia e maggiori schieri dal nord. Al pomeriggio locali piogge su Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia ed ampi spazi di sereno sulle regioni settentrionali. In serata e nottata tempo più asciutto su tutta la penisola salvo residui e precipitazioni sulle isole maggiori. Temperature minime stazionarie e massimi lieve rialzo soprattutto al centro nord. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.